Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei fare una nuova tipologia di video, vorrei iniziare con voi l'analisi dei grafici per stabilire per quanto riguarda i principali mercati europei e mondiali quali sono le probabili tendenze del prossimo mese. Infatti in questo video cominceremo a fare delle ipotesi per quanto riguarda maggio 2021, ma prima di iniziare come sempre vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati, quindi l'unico favore che vi chiedo è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Ma iniziamo immediatamente con il video di oggi cercando di capire quali sono le tendenze per quanto riguarda gli indici europei. Iniziamo dagli indici europei. Questo è il grafico del DAX, che è l'indice tedesco. Come potete vedere al momento ci orientiamo intorno a quota 15.300 punti. Per quanto riguarda l'analisi tecnica possiamo vedere, qui in rosso vi ho indicato la media mobile a 21 periodi, possiamo vedere che è stata testata ben tre volte dal giorno 5 marzo, poi il giorno 25 marzo e ancora il 21 aprile. Quindi è una media che viene molto tenuta in considerazione da questo grafico e infatti come potete vedere c'è una tendenza alla salita. Nel caso in cui invece ci dovessero essere dei trend ribassisti, ho individuato delle soglie molto interessanti che sono praticamente a 14.150 e a 13.400. Nel caso in cui dovesse scendere vi ho indicato questa area che è appunto tra le due soglie appena citate, che potrebbe essere una opzione interessante di acquisto per quanto riguarda questo mercato. Andiamo avanti e vediamo invece UK100, l'indice inglese, per vedere che cosa è successo su questo indice. Allora ragazzi su questo indice al momento siamo a 6.900 punti e siamo vicini ai massimi storici di 7.000 punti che sono stati di poco superati. Anche in questo indice prevale l'ottimismo, infatti come potete vedere c'è una trend line rialzista che sta fungendo da supporto, appunto da supporto per ben 1, 2, 3, 4, qui tantissime volte e poi ancora negli ultimi giorni regge come supporto per quanto riguarda questo indice per i prezzi. I prezzi invece dovrebbe continuare a salire anche questo indice. Per quanto riguarda dei livelli di storno io li ho indicati tra i 6.600 e i 6.350. In questa area ragazzi sicuramente bisogna prestare attenzione perché potrebbe essere un'area molto interessante di acquisto nel caso in cui ci dovesse essere lo storno. Ovviamente ragazzi è bene sempre monitorare quello che fanno i grafici perché poi sempre e soltanto i grafici ci danno l'indicazione reale di quello che sta succedendo. Andiamo a vedere ragazzi il Fuzzimib che cosa sta facendo. Vediamo un attimo Fuzzimib eccolo qui. Allora ragazzi per quanto riguarda il Fuzzimib altrettanto vediamo una tendenza rialzista però in questo caso ragazzi come potete vedere negli ultimi giorni con la candela del 20 aprile è stata bucata la media mobile a 21 periodi che era stata utilizzata come supporto. Adesso negli ultimi due giorni è diventata una resistenza quindi attenzione questo potrebbe essere anche un segnale di inversione ribassista. Certo c'è una trend line che continua a puntare verso l'alto e quindi bisogna stare molto attenti sull'indice italiano. Allora ragazzi io vi ho indicato anche qui due livelli che sono al momento vi ricordo che siamo a 24.400. I livelli che vi ho indicato sono a 24.000 e a 22.900. All'interno di questo range ci potrebbero essere degli utili riferimenti per comprare al rialzo quindi per acquistare su questo indice. Ma spostiamoci adesso sui mercati internazionali. Volevo vedere insieme a voi l'indice standards and poor 500. Come potete vedere ragazzi anche su questo indice la trend line è rialzista e possiamo vedere chiaramente come il rialzo dei prezzi dell'ultimo periodo sia stato molto molto intenso. Infatti guardate un po' e sta praticamente la media 21 periodi è stata comunque utilizzata come supporto parecchie volte. È vero che è stata rotta in ben tre occasioni ma comunque c'è una tendenza al rialzo. La media a 200 periodi invece che è quella che io seguo per i trend di lungo periodo è sempre molto lontana dal grafico e quindi ci indica che il grafico al momento è molto oltre i suoi livelli medi a 200 periodi quindi a 200 giorni in questo caso. Ragazzi io vi volevo indicare a questo punto lo facciamo in diretta due livelli importanti che sono questo qui e questo qui che sono appunto livelli molto importanti che seguiremo sicuramente nei prossimi video. Infatti al momento siamo a 4.180 punti e sicuramente la tendenza non è al ribasso. Io volevo indicarvi quindi questi due livelli che sono poco sotto i 4.000 e a 3.700 che sono diciamo qui si formerebbe un'area a mio parere molto interessante per poter acquistare nel caso in cui ci sia uno storno. Chiaramente ragazzi ora viaggiamo intorno proprio ai massimi storici e quindi è utile continuare a monitorare attentamente quello che succede. Probabilmente la tendenza come potete vedere ragazzi io vi vi do proprio un riferimento in diretta guardate la tendenza è comunque una tendenza al rialzo al momento e sta continuando a tenere questa trend line diciamo tra che si è creata tra marzo e aprile del 2021 ma passiamo al nasdaq 100 quindi n di x per vedere che cosa sta succedendo no sbagliato n di x vediamo indice nasdaq eccolo qui ragazzi allora sull'indice nasdaq ragazzi possiamo vedere che in realtà i massimi storici di 13.800 sono stati superati nell'ultima settimana di poco siamo arrivati poco oltre i 14.000 punti su questo grafico potete vedere che la media 21 periodi è stata prima un supporto poi appunto due volte da resistenza più o meno poi ancora da supporto e al momento si trova sotto il nostro grafico chiaramente anche sul nasdaq 100 abbiamo una tendenza che è sostanzialmente rialzista con però un periodo di pausa di circa due mesi e mezzo due mesi due mesi e mezzo a cavallo di tra febbraio ed aprile il livello un buon livello per poter acquistare a sconto in questo caso ragazzi potrebbe essere quello collocato tra i 12.700 e i 12.300 in quest'area se dovesse stornare il grafico ci sono opportunità interessanti di acquisto ma andiamo a vedere ancora ragazzi euro dollaro per capire che cosa sta facendo euro dollaro allora ragazzi euro dollaro ha una tendenza che pare essersi invertita infatti era iniziato dall'inizio dell'anno un movimento ribassista su euro dollaro che seguiva questa linea che vi ho tracciato in azzurrino e infatti la media mobile a 21 periodi ha cominciato a scendere fino all'ultima settimana le ultime due settimane quando ha ricominciato come vedete a curvarsi verso l'alto quindi punta nuovamente a salire euro dollaro che ha addirittura incrociato nuovamente al rialzo la trend line la media mobile a 200 periodi ragazzi come potete vedere la media mobile aveva appunto da resistenza la media mobile che scusate la lì la trend line che vi ho tracciato in azzurro appunto da resistenza per ben tre volte all'inizio dell'anno il 5 6 gennaio poi il 26 febbraio e ancora il 19 aprile invece negli ultimi due giorni addirittura è stato un supporto per una salita del prezzo quindi questo potrebbe essere un segnale di inversione rialzista su euro dollaro ultima cosa che volevo farvi vedere ragazzi è bitcoin perché bitcoin in questo ultimo periodo sta salendo parecchio e infatti volevo farvi vedere il canale che si era creato dall'inizio di febbraio che è stato rotto al ribasso attenzione perché su bitcoin i livelli importanti da tenere presenti sono al livello sono sono a quota 45.000 e 40.000 quindi in questa area se dovesse arrivare io vi traccio sempre un grafico un quadrato un rettangolo potrebbero esserci interessanti opzioni di acquisto ovviamente voglio farvi voglio ricordarvi che bitcoin dal suo massimo ha perso ben il 25 per cento ad oggi nel punto di minimo è arrivato a perdere il 27 per cento quindi comunque se anche acquistassimo al momento ci troviamo in una buona posizione compreremo a sconto di ben un 25 per cento bene ragazzi io vi ricordo come sempre che questi video non sono sponsorizzati quindi vi chiedo un bel like se vi piacciono lasciate un commento iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti io vi ringrazio per la visione ci vediamo al prossimo video ciao